a di autoservice dove esperienza e professionalità accendono i motori le services servizi grafici abbigliamento sportivo antinfortunistica e per qualsiasi professione istituto di vigilanza securità spuglia ristorante pizzeria le tre torri da giovanni gruppo simpli l'ipermercato più vicino a te todo modo e hotel a terra caseificio bianca ustuni 30 40 imprese costruiamo la tua solida realtà capitano tanzarella partiamo sicuramente da un girone di andata fortissimo per l'ustuni pochissimi scivoloni è andato tutto liscio una grande squadra possiamo tracciare un bilancio di questa prima parte del campionato sì una prima parte di campionato che ci ha visto esprimerci bene bene come squadra bene come roster bene soprattutto come gruppo e che in virtù di questo ha visto dare dei risultati importanti fatta eccezione per qualche episodio come ad esempio la partita la sconfitta di monteroni maturata in maniera poi anche un po strana per via della sfortuna dovuta a qualche assenza e che però diciamo nel percorso di un gruppo in formazione può anche starci però alla fine del girone ci ritroviamo in una buona posizione in classifica speranzosi di poterci giocare il campionato da protagonisti fino alla fine l'ultima partita a lecce si è ceduto solo nel finale è stata una partita punto a punto un lecce che sicuramente sta dicendo la sua in questo campionato ma anche lo stuni sta percorrendo la strada migliore grazie agli sforzi del patron grazie agli sforzi degli sponsor e grazie a un entusiasmo del pubblico che sta crescendo sempre di più siamo alla vigilia di una credo delle partite non più importanti della stagione però un derby molto sentito quello con ceglie con un coach che conosciamo bene che è arrivato in corsa appunto in quella formazione che partita sarà beh riprendo dalla domanda dalla prima parte della domanda lecce è stata una partita sicuramente tra due squadre che si giocheranno questo campionato abbiamo tenuto fuori di casa l'orto di una corazzata qual è quella appunto del lecce nonostante anche in questa occasione ci fossimo presentati a lecce con qualche problema di organico però anche il risultato finale e le occasioni sciupate per addirittura vincere la partita da noi ci fanno ci danno fiducia per il leggo e per speriamo le sfide future che ci vedranno rapportarci ancora una volta a lecce quella col ceglie è sicuramente forse la partita più sentita del campionato al di là che delle questioni di classifica ma per una rivalità ovviamente che ci contrappone ai nostri cugini in questo caso che spero chiaramente rimanga come sempre è stato devo dire la verità nell'ambito delle manifestazioni sportive delle feste di sport e delle battaglie sul campo che devono esserci all'interno di una competizione prettamente sportiva che non deve sconfinare invece in altri tipi di comportamenti ha un sapore particolare un ingrediente in più che quello chiaramente della panchina del ceglie che è occupata da un nostro concittadino che noi ricordiamo benissimo per insomma aver fatto diciamo una piccola parte di storia tra virgolette sto scherzando della della nostra pallacanesto del nostro percorso cestistico e questo darà un po di di sale o di pepe in più alla alla partita non è stato un bel inizio per me perché mi sono fatto male subito dopo cinque minuti e nonostante tutto abbiamo dimostrato di di saper giocare con chiunque eravamo pure più 18 perdendo a supplementare quindi mi dispiace sicuramente c'è voglia di riscatto sia da parte mia ma soprattutto da parte della squadra perché prima di tutto è un derby un derby sentito da tutte e due le parti e quindi abbiamo voglia di dimostrare che siamo capaci di battere chiunque invece venendo al girone di andata è un campionato sicuramente ostico difficile molto corto come hai visto le squadre che avete affrontato le avete affrontate tutte sia fuori casa che in casa che livello hai trovato sicuramente il livello è alto si è visto che è un campionato strano difficile corto come detto tu possiamo vincere cioè le squadre possono vincere con tutti ma anche possono perdere con tutti noi abbiamo fatto un girone di andata secondo me molto molto livello molto alto tranne le prime due partite tre partite abbiamo verso cieli a monteroni poi abbiamo fatto sette vittorie consecutive e l'ultima a lecce siamo andati senza le nostre guardie titolari senza domenico e tommaso e nonostante tutto abbiamo avuto tre volte il tiro per pareggiare la partita che dire campionato strano difficile può succedere di tutto sicuramente tutto